Un primo tempo perfetto del Parma, a mio avviso, un Parma che conosceva i propri limiti, forse anche fisici perché c'era qualcuno che non stava tanto bene, un Parma che consapevole di quello che doveva fare, allora abbiamo, abbiamo, non c'è problema, facciamo l'idea che ci sono i nostri assistenti di studio che lavorano, e quindi è un Parma che ha domato subito la Reggiana, forse era importante fare questo. Sì, sapevamo della forza della Reggiana, però questo anno è spaventato, abbiamo preparato la partita nei minimi dettagli, abbiamo cercato di fare quello che è deciso di fare, poi in primo tempo ci è riuscita la grande, in secondo tempo siamo venuti meno anche fisicamente, forse potevamo stare un po' più alti, però nonostante questo credo che abbiamo rischiato poco, siamo fatta una parata di Zomers, però l'analisi è giusta, un grande primo tempo si poteva fare sicuramente meglio nel secondo tempo. Quanti chilometri hai fatto, lo sai, c'hai contapassi? No, ieri devo dire che non si vedeva all'inizio del campo, poi alla fine. non si vedeva. No.